Coppone, bello pesante, chissà si hanno fatto anche del lavoro specifico ai bicipiti i nostri ragazzi in queste ultime ore per sollevare questo coppone. Le francese, punizione battuta da Kovac, sta nel limite, palla fuori, pericolo, attenzione, Viera, cerca il numero, Verón, la brocchita che esce, poi c'è un tiraccio. Poi ancora Oba che gli porta via palla, Adriano che va da solo, attenzione Adri, cerca di andarsene, salta un uomo, attenzione, sì, lo vanno a chiudere, c'è l'intervento di Emerson che gli porta via palla. Non sono ancora andati sulla fronte di destra, palla per Adriano, è un po' corta, Viera, che controlla questo pallone, mette lungo per Ibrahimovic, sbaglia il passaggio all'indietro, Seba Verón, palla per il Joker, ancora Verón, di prima per Adri, protegge bene la sfera, si libera con una finta, cerca di toccarla in avanti, ancora Zemaria, il tocco per Verón, palla fuori per il Cuciu, Santana, Zambrotta, poi Nedvede, riparte la Juventus, Verón lo butta giù, bravo Seba. Dal vantaggio però l'arbitro no, ferma il gioco, però non deve dare la munizione qua, deve dare un bel rimbrotto verbale, quello sì. Calcio di munizione che va a battere Zambrotta, Gianluca Zambrotta, gli scivola via il pallone, Treseguet non si aspettava tanta grazia, per fortuna non è riuscito, tanto attenzione Viera, con Oba che cerca di passargli sotto le gambe, potrebbe anche farlo. Protestano vivacemente i nostri, protestano con De Sante su indicazione del Guardialine, dice, aveva già perso palla, la palla ce l'aveva Ibraimovic. Sovac e Cannavaro, tutti e due col cappello corto, Seba Verón, parte palla al piede, Nedvede il suo di lui, palla per il Cuciu, il presso indivierà, il presso camoranesi che gli si fa contro, chiama l'1-2, palla l'indietro, c'è l'intermissione di Seba Verón che porta via palla, Oba controlla, cerca di andarsene, salta secco, Cannavaro messo giù da Viera, iniziamo a dare qualche amariglia qua, e questo è un fallo tattico volontario perché aveva super strada Oba per andare, protestano, protestano i nostri perché guardate Oba, si beve Cannavaro che fa fallo, guarda qua il fallo di Cannavaro, e poi lo sgambetto da Tergo da Di Cucciu, poi Stankovic e poi Verón, attaccato da due, cerca di far girare palla la perde, carica il destro Ibraimovic, palla che termina lato ma protesta Seba Verón con De Santis perché che stava cercando lo zio, palla di Verón, pressato da Viera, due su di lui, palla l'indietro per Materazzi, di prima per Favalli, Oba, palla l'indietro per il capitano, l'indietro per Verón, facciamo circolare questa sfera, parte in dribbling Seba, attenzione, il taglio dentro per Oba, attenzione Oba, vai colpici, va dentro, salta un uomo, minuti, palla giocata da Matrix, il tocco di Stankovic per Verón, sale il pressing di Emerson, il tocco all'indietro per Ivaramiro, ancora Seba, la bruchita in avanti per Stankovic, controlla bene il tocco per Piazzare, forza ragazzi, il tocco fuori per Verón, di prima sbaglia l'appoggio, viene a porta via, poi Matrix, però sbaglia, serve Favalli, Stankovic, forza ragazzi, il Drago cerca di andare in mezzo a due, perde palla, messo giù, in avanti per Oba, Oba che controlla, attenzione Oba che cerca di andare, il Cucciu, tocca bene per Verón, partiamo, faccia la porta, palla al limite per Adri, Adri, il Cucciu, carica a sinistro, il tiro, è fuori! Lo chiude Zambrotta, palla sul fondo, il cross un po' retrato, la testa è quella di Emerson, poi Verón al limite, controlla, il tocco dentro per Adriano, siamo ai 25, poco distante, centrale per Vierà, arriva Zambrotta sulla fascia di sinistra, Vierà invece va dalla parte opposta, Materazzi esce bene in anticipo di testa, Verón mette giù, Vierà gli porta via sfera da dietro, di Favalli, Cambiasso, Vierà in vantaggio, controlla questo pallone, buono l'anticipo, pallone dice l'arbitro, un intervento di Kovac, non piede, poi Vierà, buono il dribbling su Verón, se ne va, cerca di andarsene anche su Stankovic, tocca il pallone, poi Zebinaglia lo porta via, poi Vierà, Emerson ripartono ancora con Verón che va a sottrarre palla al brasiliano, tocca per, con questo bel gesto tecnico, bravo Martins, che tiene palla, mette in movimento Verón, Verón di prima per Adriano, Adriano che cerca di andarsene, e c'è il grande intervento, le mani Adri, palla per Verón, buono il dribbling, se ne va Seba, tocca per Adri, l'imperatore cerca l'1-2 ancora con Verón, fai circolare questa palla Seba, bravo, il cuccio, si è ripreso Matris, quindi gli ha messo un piede su un ginocchio nella casa, tanto c'è un bel intervento di Verón, Irregolare, secondo l'arbitro protesta come un'anguilla Seba, che va a dire ad Emerson, anzi a Vierà, rialzati che non t'ho fatto niente, t'ho preso la palla in anticipo netto, rivediamolo questo intervento, hai ragione, gli va in scivolata e gli tocca via il pallone con Vierà che lo stava proteggendo, non si aspettava questo, si sta riscaldando perché si è reso conto di questo problema per Materazzi, Mancini ha fatto subito alzare dalla panca anche Walter Samuel, ancora Verón, va a rubare ancora l'ennesimo pallone, Adriano, andiamo in due contro tre, attenzione, cerca il tiro dai 40 metri con chi mette fuori, è alta, ci ha provato, chiede scusi, palla dentro, attenzione, colpo di testa di Vierà, palo, a portiere battuto, tolto pana, pericolo, il colpo di testa di Vierà, intanto rivediamo questo palo colpito da Patrick Vierà ed esce Zema, il tocco del Favalli per Pechegnito, palla giocata su Verón, Pizzarro, due su di lui, buono, cambio di gioco immediato sulla sinistra per Favalli, può andare al cross, Adriano che si piazza, palla per Martins, Martins ancora per Favalli, Favalli attaccato da Vierà, vuole guadagnarsi un calcio d'angolo, si guadagna una rimessa con le mani, Tergo, calcio di punizione che possiamo andare a battere da questa posizione con Seba Verón pronto a battere, Samuel e Cordoba vanno a saltare, ci sono Stankovic, Adriano e Martins in area di rigore, intanto rivediamo il gestro, è il Pech che cambia gioco sulla destra per Verón, buono il controllo di Seba, c'è Ned del su di lui, il tocco per Stankovic, Stankovic ancora per Verón, c'è il taglio di Pizzarro di prima, buona, la manovra, attenzione andiamo dentro, il colpo di testa di Samuel anticipato, cade a terra Adriano che è in braccio dei Santi, sa potrestare, Verón va dentro, giochiamola, Seba guadagna il fondo, corner ancora, forza! C'è la falla di mano di Treseguet, Zambrotta lì dietro per Cannavaro, sale il pressing di Verón che gli porta via palla e guadagna però solo una rimessa con le mani in favore dei bianconeri, primo piano per Juan Sebastian Verón, prima per Oba, Biera che controlla, poi Verón che recupera la sfera, tocca per Dechi, Dechi che parte di tacco, però si entromette Del Piero, Verón non c'era, Del Piero riparte, azione personale, Favalli l'anticipa secco, poi Cucciu, poi Verón, possiamo ripartire con Pizzarro, il intervento di Zambrotta è sostanzioso, così come il controllo di Patrick Viera che batte subito lungo cercando Ibrahimovic, Ibrahimovic contro Walter Samo, con Saverio che va da solo, attenzione Capitano, palla larga per Verón, Verón per Dechi, il Drago che controlla, può andare al cross, viene chiuso, e allora ancora Verón, al limite, cerca Adriano, non lo trova, poi la palla ricoperta da Verón, Pizzarro, andiamo dentro, Adriano vuole andare da solo, con Viera che lo segue, vanno a chiuderlo, c'è anche Zebinà, Adriano, Zebira, gli porta via Palling, mette in movimento Adri, Adri che controlla, due su di lui, palla buona nello spazio, va Verón, attenzione, il pallone dentro per Adri, l'acrobazia Adriano, l'intervento di Zebira, 40 secondi alla fine dei tempi regolamentari, Oba recupera un buon pallone, Saverio, Verón, possiamo provarci, l'ultimo assalto, il PEC, la palla di Verón per Stankovic, Favalli, ancora Favalli che controlla il pallone, Verón che gli si fa contro, Viera che lo va a contrastare, lo va, gli porta via Pall, attenzione, il contropiede, Ibrahimovic, servito da Treseghe, Ibrahimovic il destro, il cross, palla dentro, una mischia, allontana come può la difesa nerazzurra, ma un po' in affanno, Verón con il petto, mette giù, Viera, lo va a contrastare, poi Pizzarro vede partire Adriano, lo lancia a lungo, non c'è fuori gioco, Adri entra in aria, attenzione, Cannavaro su di lui, si ferma, è l'uomo più avanzato, deve aspettare che arriva Verón, lo serve, Seba, Carica nessuno, è gol, 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 la bruchita, è la bruchita, è il gol dell'1-0, Seba, Seba, Seba Verón, Seba, Seba Verón, Seba... Forza ragazzi, il pallone è giocato, palla che viene scatta, una larga per Zebina, Zebina nello spazio, Nedved vanno dentro, Viera a pericolo, il fallo del cucciu, scatta mi bella Madunina, intanto in curva, Walter Samuel mette movimento largo e ci arriva però Zemina ad anticipare Stankovic e ripartono loro con Treseghè, Del Piero, larga per Viera, molto bravo questo ragazzo palla giocata di esterno, fa anche Rima, gancia bene con il sinistro, può innescare Verone, non ce la fa poi Seba controlla, bravo, piattone all'indietro per Decchi, il Drago per Favalli si riparte ancora con Seba Verone che controlla il pallone, tocca all'indietro la seconda metà dei supplementari Verone va dentro da solo nello spazio, Pizzarro, attenzione, ancora la palla per Verone che allarga bene per Adriano, Adriano che gli si fa contro, ancora Verone, di prima per Adri, Kovac Ibrahimovic, Favalli che lo va a contrastare, Ibrahimovic mette in movimento all'indietro Viera la palla un po' sporca, Verone perde il contrasto e si infortuna, speriamo di no, 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 solo un giusto palla nello spazio per il Cino, il Cino deve inventare qualcosa, ne tocca fuori ancora per Seba di prima per Pizzarro, attacca l'autore del gol, la bruchita, Juan Sebastian Verone, da cui Motivetto Eccolo qua Seba Verone, saluta, ringrazio